Le notizie del giorno, con voi Martino Ciano. In Calabria la ginecologia dell'ospedale Iannelli di Cetraro è ancora nel Pantano. Dopo la decisione del dottor Misasi di rinunciare all'incarico quale primario del reparto è ancora caos. Ne abbiamo parlato con il collega Antonello Troia e con il direttore dello SPOC Paola Cetraro, Vincenzo Cesario. Interviste vi ascoltabili su www.radiodgs.net e sul canale YouTube Radio DGS. Via Libera, da parte del Comune di Santa Maria del Cedro, alla riscossione coatta della Tavi 2014. 195.000 euro da recuperare per tributi che non sono stati pagati dai contribuenti, nonostante i solleciti inviati negli scorsi anni. A Scalea la Casa Comunale si doterà di un impianto fotovoltaico, grazie al ricevimento di un finanziamento di 90.000 euro dal Fondo Decreto Crescita del Ministero dello Sviluppo Economico. Dalila è intelligente, sa che non si può fare, abbiamo delle regole, vanno rispettate, non esistono deroghe. Così Luigi Di Maio, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, commenta l'intenzione della deputata Dalila Nesci di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria per le regionali. nella nostra regione. Il Comune di Paola si appresterebbe a cancellare con un'operazione di taglio ben 22 ettari di bosco di alto fusto a prevalenza di faggio in località Cozzo Cervello. A dirlo Italia Nostra Fuscaldo, che interviene sulla vicenda con un comunicato stampa nel quale chiede di fermare questa direttiva. Invece di tutelare e conservare quest'area naturalistica, spiega Italia Nostra, per l'intera collettività se ne vuole disfare, eliminando un numero notevole di faggi in cambio di un ricavato di appena 54.000 euro. 150.000 euro è quanto risparmieranno i cittadini di Castrolibero grazie alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, approvata ieri dal Consiglio Comunale di Castrolibero a Di Chiavallo e Marco Porcaro, assessore alla programmazione economico-finanziaria. Siamo il primo comune calabresa ad adottare questo provvedimento, che porterà un calo dei tassi di interesse dal 3,86% all'1,49%. Si tratta di sei mutui contratti dall'ente nel 1999, che scadranno nel 2044. Sport dal 25esimo al terzo posto assoluto è la sintesi del valore di Simone Iaquinta, che ha portato la sua carriera 911 dal fondo della griglia di partenza fino al podio in gara 2. Una cavalcata incredibile sul circuito di Misano, nell'ambito del Festival Porsche, nel penultimo appuntamento stagionale della Carrera Cup Italia. Iaquinta, che difende i colori team Ginzani Arco Motorsport Centri Porsche di Milano, partiva da capo classifica generale, una responsabilità importante in uno dei trofei automobilistici più competitivi dell'intero motorsport. È tutto, grazie per averci seguito. Grazie.